Recensione super rapida e onesta del Clarfit Alfrac che ho preso su Amazon circa un anno e mezzo fa la struttura è ottima, fa tutto quello che dice quindi andiamo a vedere subito un po' di misure e come mi sono trovato è ben bullonata quindi risulta stabile su questi supporti ci stanno i bilancieri olimpionici che io non ho la sua lunghezza è 122 cm con possibilità di bullonarla la larghezza è 110 cm complessiva dei tubi mentre solamente la barra da trazioni è 99 cm la zigrinatura è un po' vedo non ti vedo la barra lezzetta ci sta seppur non molto comoda in questo dettaglio si può vedere cosa succede se si stringe troppi bulloni nella parte alta questo è il foro che uso più spesso e dopo un anno non mi pare che si sia usurato granché qui vediamo l'altezza massima a cui si può mettere un bilanciere 186 io lo metto a 175 e sono 2,5 metri quindi andrà bene un po' a tutti il punto di forza è sicuramente l'altezza di tutta la struttura che è 2,16 metri la lunghezza del mio bilanciere è 175 e ci sta comodo qui possiamo vedere l'attenzione del dettaglio lo smerdo perché è quello che è successo dopo un anno di utilizzo ai feltrini che avevo messo non mi sono degnato di cambiarli per il video ma vabbè questo è quello che succede se non li mettete ossia si scrosta la vernice e poi apparirà la ruggine nel complesso per 129 euro 99 non troverete niente di meglio questo qua fa egregiamente il suo lavoro è molto alto ci si può fare le trazioni quindi secondo me è ok ciao grazie compratelo grazie a tutti